Il pronome fa il posto del nome, io, tu e il mio nome, ma non è solo professionale, può essere anche il numero di uno, anzi no, il numero di due. Il mio, tuo, tuo, nostro, nostro, sono pronomi possessivi, questo pensa, quelli, quelle, sono pronomi dimostrativi, pochi volti indefiniti, che cui del fai sono relativi i pronomi, sono tutti pronomi. B, B, C, B, C, sono pronomi pensionali.